Ritorno. Finché vivi, i tuoi compagni possono rientrare. Uccidi i bersagli per schierarli prima. Maggio un punto di lancio per la squadra e vai! Punto di lancio marcato. Moltiplicatore pie in arrivo. Nemico in arrivo nell'area. Scansione. Identità confermata. Corazze qui. Identità bersagli Italia confermata. Abbiamogli la caccia. Obiettivo principale raggiunto. Spera i tuoi compagni. Uccisione confermata. Sappiamo dove sono gli altri. Spera i tuoi compagni. Sto a fare l'armi. Sparano! I got you, homie! Soldato nemico in arrivo. Sto a nevole si viena. Sto a nevole si viena. Ah! Sto a nevole si viena. Sto a nevole si viena. Oh Oh Tutti i compagni sono nella zona sicura Un compagno è tornato in squadra Bene Attenzione c'è una stazione di acquisto nemica Moving here Arrivano dei nemici Attenzione in alto Sono tutto attacco Arco i tuoi compagni Attenzione in alto Oh Lancia una granata! Ho cercato gli altri operatori di quella squadra. Staniamoli. Nemico a terra, cerca gli altri sulla mappa tattica. Punizioni qui! Punizioni disponibili. Soldato nemico in arrivo. Fisnard, cancel that. Ultima uccisione. Farco il resto della squadra sulla mappa tattica. Buona caccia. 25 rimasti. Stai andando bene. Movimenti nemici nell'aria. Hostile located. Hostile located. Hostile located. UAV di disturbo alleato attivo. C'è attività nemica. Moving here. Hostile located. Ok. Nemico in vista. Gassi in movimento. Compagno tornato in campo. Manico in arrivo. Chill with that noise. Check fire! Ah. We got enemy movement. Enemy movement. Atenzione. Area pericolosa. Lancia! È tutto finito. Ah. Dropped him. Enemy movement. Top down. Located. A occhio alle spalle. Finestra di ritorno in chiusura. Enemy movement. Hey man, we got enemy movement. In effecting fight! Non c'è una granata! Amico. Arrivano dei nemici. Attenzione in alto. Il gas è sempre più vicino. C'è fatto! Attenzione! I rinforzi sono in arrivo. Andate alla zona sicura. Invece. Ah, saldi terminati. Prezzi tornati alla normalità. Granata lanciata! Zanzara ostile in funzione. Nemico in arrivo nell'area. Hostile. Locale. Ma che cosa faccio? Orvi? Orvi? Lancia una granata! Attenzione! Ricordi non un giro azzivo. Si fa sul serio. Zanzaro nemica schierata Arrivano dei nemici, attenzione in alto C'è un tiro da me Termite perreno, muovetevi Raggiungete la zona sicura Attenzione, area pericolosa In me move Hedgehog from another dimension, man I call it the Cosmic Cranium Connect Elevasione imminente Aggiungo questa zona Contact Hostile, locate Movimento, please Attenzione, movimento Enemy movement Porta la squadra alla zona scuola Nessuno deve restare indietro Evasione in corso, guardate in alto Amico in arrivo nell'area Tu avvi di disturbo ostile in volo Hostile, locate Limito, clean Attenzione, area pericolosa Puntate alla zona sicura Puntate alla zona sicura L'area è in giro L'area è in giro L'area è in giro L'area è in giro Di nuovo in piedi Sto bene Sono sotto attacco Movimenti nemici nell'area Annulare la comunicazione Di nuovo in piedi La squadra è tra le prime cinque A tutte le unità Nessun movimento l'area è sicura rilevo altre minacce in arrivo priorità all'estrazione